50-50 e l'orizzonte del patto imprenditoriale che lega Francesco Rossi e Leonofrio Lopez hanno deciso di ripartire controllando il 50% a testa delle quote del Monopoli e del Bitonto una divisione equa per due progetti paralleli ma basati su obiettivi e percorsi differenti il club bianco-verde ripartirà da quei quarti di finale nei playoff DC raggiunti con la sfida al Catanzaro quello nero-verde, reduce da una stagione non esaltante nel gruppo H di Serie D chiusa con la finale playoff persa contro il Francavilla in Sinni sembra destinato a un cambio di rotta, basato su una partnership nata a tavola come raccontato dallo stesso Rossiello è stata una pizza tra amici, quindi parlando sia delle vicissitudini del Bitonto che del Monopoli abbiamo cercato di creare questo binomio, ora speriamo che porti grossi risultati dopo anni di investimenti per tentare di portare il Bitonto tra i pro partendo dalla prima categoria con l'omnia fino alla Serie D con tre partecipazioni ai playoff e una C conquistata sul campo e poi persa per mano della giustizia sportiva Rossiello individua le strutture tra i fattori determinanti che l'hanno condotto a rassegnare le dimissioni Per Bitonto oggi non ci sono i presupposti strutturali come ti accennavo anche prima per fare del calcio ad alti livelli perché abbiamo dei problemi sulla struttura stadio quindi c'è un bando, ci saranno dei lavori però non si sa quando inizieranno e soprattutto quando finiranno però abbiamo stabilito così come diceva anche Onofrio del rapporto che uno è entrato nella società dell'altro al 50% comunque di non abbandonare il progetto Bitonto, comunque andrà avanti aspettando quelle che sono la realizzazione di determinate strutture che sono fondamentali per fare il calcio Nell'avvenire del Bitonto allora potrebbe esserci un progetto destinato al ringiovanimento dell'organico con obiettivi che saranno definiti nelle prossime settimane di certo è complicato pensare a una conferma in blocco di un organico che quest'anno non ha convinto e non ha reso secondo l'antico legame tra i costi e il rendimento già nel corso dei prossimi giorni potrebbero arrivare annunci